parliamo ora di questo BOM dei browser object model come vi ho detto abbiamo questa variabile questo contesto globale che si chiama window che contiene un riferimento sia al DOM sia al BOM quindi questo window ci permette di interagire con il browser attraverso questo BOM per esempio questi metodi metodi e proprietà che non sono standardizzate a differenza di quello che capita nel DOM e quindi i browser potrebbero avere comportamenti diversi ma sono abbastanza comuni history è l'unica che forse è standardizzata history location mi sembra siano invece standardizzate da hdml5 questo soggetto globale window contiene tutte le variabili globali e dato che è globale ed è sempre presente può essere anche omesso quindi scrivere window.navigator o window.document o scrivere solo document solo navigator sono la stessa cosa mentre il BOM rappresenta appunto tutte le proprietà del browser il DOM per esempio il document rappresenta l'albero del DOM caricato in una finestra sempre accessibile via window.document oppure solo document quindi se per esempio noi ispezioniamo il sito di Disit questo qui e qui abbiamo l'HTML quindi abbiamo il DOM vedete il LED poi c'è il BOM c'è il BODY all'interno del BODY ci sono dei div all'interno del primo div c'è un bottone con un altro div all'interno del div c'è tutto questo albero e questi elementi hanno alcuni loro attributi e se ci fosse un elemento testuale vediamo se lo troviamo ecco qua all'interno dell'elemento dell'elemento h2 abbiamo del testo che a sua volta non è un tag non è un elemento html ma è appunto solo testo e così via no? però vedete che c'è questo questo albero in un certo senso se noi scriviamo window.document nella console e premiamo invio vedete che lui ci ritorna un oggetto di tipo document che è esattamente all'intera pagina html che possiamo vedere qui sopra e vedete che se noi scriviamo document e basta lui ci torna esattamente lo stesso tipo di oggetto proprio perché questa variabile window è globale ed è sempre a disposizione quando non c'è niente prima di tutto javascript controlla che sia all'interno di window quindi window rappresenta davvero questo scopo globale questo scopo globale dei programmi ricordate lo scope quando soprattutto se userete mai this e possiamo aggiungere oltre che leggere come document delle proprietà da 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 punto da window possiamo anche aggiungere degli attributi che quindi diventano globali e disponibili a tutti per esempio potremmo scrivere window.myprogram solo variabile myprogram e assegnargli un valore a quel punto accedendo da qualunque da qualunque sotto da qualunque funzione da qualunque sotto da qualunque script che accede alla variabile globale window possiamo recuperare il valore di questo le variabili globali ovviamente sono comode da questo punto di vista perché ci permettono di scambiare informazioni tra vari script tra vari parti del programma ma ovviamente sono da utilizzare da un punto di vista dell'ingegnere del software il meno possibile perché presentano i loro problemi per esempio clash di nomi con altri script oppure proprietà predefinite oppure uno script che definisce window myprogram e un altro script che lo ridefinisce e quindi a un certo punto non si sa più quale quale valore è contenuto in questa variabile quindi magari quello sbagliato e così via quindi variabili globali esistono si può utilizzare per esempio window ma evitiamo il più possibile di aggiungere gli attributi window se proprio non abbiamo altri metodi e tipicamente ci sono altri metodi e li vedremo quali sono queste proprietà del bom del browser object model che sono tutte collegate a windows esattamente come sono collegate a come collegato document questi sono i cinque principali console console abbiamo già trovata in nod quando scriviamo console.log ecco quel console è questa stessa console quindi appunto console.log era questa proprietà console che in nod è agganciata alla variabile globale di nod qui invece è agganciata a questo window ma ha un comportamento analogo quindi permette di stampare qualcosa nella console document è l'oggetto di document che abbiamo visto appunto nell'esempio history permette di accedere alla history alla history dell'url possiamo provare per esempio scrivendo history vedete che mi dà una history in questo caso la history è un oggetto un po più complesso che ha una sua lunghezza eccetera eccetera però è un oggetto javascript vedete ha proprio una variabile proprio il parentesi graph e quant'altro e ovviamente questo history ha poi delle proprietà esattamente come console si può fare log anche qui si può fare history quindi back se non ricordo male possiamo provare history.back non mi ricordo secondo senza le parentesi con le parentesi vedete torno indietro quindi è come aver premuto il bottone history e come il bottone indietro e allo stesso modo facendo history.forward lui mi torna alla pagina del digit esattamente come premere questi due bottoni location permette di accedere alle location api che rappresentano la url corrente il protocollo http https eccetera e sono proprietà in lettura e scrittura quindi possiamo dirgli buy a una nuova pagina carica una nuova pagina se vogliamo e local storage e session storage la famiglia di storage permettono appunto di accedere a due oggetti uno appunto il local e uno session all'interno del web storage api per memorizzare una sorta di mini database per memorizzare alcune informazioni all'interno del browser una mini database che tutti i browser hanno quindi è possibile se serve memorizzare qualcosa in maniera un pochino più persistente e a un pochino più lunga durata è possibile utilizzare uno storage interno al database se servisse al browser se servisse ovviamente questo storage è uno storage proprio del browser e quindi nel client quindi ogni browser avrà il suo storage a differenza invece in un database in un server che può essere ovviamente acceduto da clienti diversi queste sono alcune proprietà frequenti di questi oggetti del BOM abbiamo visto history, back and forward, navigator possiamo chiedergli user agent quindi se stiamo navigando con Chrome, con Firefox, con quale famiglia di browser se è mobile, non è mobile, se il linguaggio del sistema operativo è inglese, italiano, quant'altro location, lo name, il pattern name, la porta e quant'altro screen, la profondità, l'ampiezza, l'altezza dello schermo e stessa cosa per window e quant'altro poi abbiamo alcune proprietà di pop-up come queste tre e di timing come per esempio set and out che abbiamo già incontrato e anche set interval che abbiamo già incontrato nel appunto in node queste proprietà di pop-up per esempio sono alert, prompt e confirm che servono per gestire i box, le finestre tipo queste, native quindi se voi per esempio scrivete alert ciao vedete vi compare il pop-up del browser, il pop-up standard del browser, in questo caso quello di Chrome con la scritta che avete inserito nell'alert queste sono cose che esistevano, che sono nate tanto tempo fa, esistono tuttora sono da evitare quando possibile utilizzarle, possono essere utili per fare debug per capire se per esempio a un certo punto il codice non funziona o se c'è qualche problema di interattività, quindi invece di console.log si potrebbe utilizzare alert ma sono da usare veramente poco e possibilmente non usare nessuno dei due, l'alert è il primo, prompt e confirm invece servono appunto ad avere bottoni tipo ok, confermo oppure no set interval, clear interval, set amount, set immediate sono metodi quindi sono funzioni analoghe a quelle che abbiamo visto in node quindi set timeout chiamerà una certa callback passata come secondo parametro di questa funzione quando un certo timeout sarà scaduto add event listener, remove event listener invece sono due funzioni importanti soprattutto nel mondo browser, nel mondo client web perché ci permetteranno di eseguire codice quando certi eventi specifici capiteranno sul documento per esempio quando l'utente cliccherà su un bottone potremo intercettare l'evento di click o così via, ma li vedremo fra poco e altri metodi di quella tabella open per aprire una nuova finestra quindi se provate, come ho fatto io nella console del browser potete aprirli move, resize, minimize eccetera manipolano la finestra del browser in questo modo move la spostano, resize la rimpicciolisce, minimize la riduce icona e così via per memorizzare dati oltre al web storage che appunto come vi dicevo comprende sia il local che il session storage dove la differenza è che il local storage non ha una data di scadenza quindi è uno storage semi permanente sono abbastanza sicuri, possono contenere abbastanza dati e non vengono mai trasferiti quindi rimangono sempre fissi nel browser il session storage funziona in maniera simile al local storage con la differenza che il dato è distrutto quindi viene svuotato questo session storage quando il tab o il browser è chiuso i cookie invece sono un altro tipo che vedremo un pochino più avanti nelle prossime settimane per memorizzare i dati li avrete già incontrati nel vostro utilizzo tipico del web con una serie di avvisi che vi dicono questo sito internet usa dei cookie per tracciarvi o per darvi funzionalità aggiuntive i cookie sono essenzialmente documenti diciamo così memorizzati nel browser con una certa data che possono avere una certa data di scadenza quindi un cookie scade volendo dopo un giorno, dopo un'ora, dopo un minuto oppure in un tempo molto molto più lungo e sono rappresentati da insiemi di coppie chiave valore per esempio name è un nome, numero è un numero e appunto possono avere una data di scadenza i cookie hanno la proprietà che non sono sono ovviamente testuali come potete vedere che non sono locali unicamente locali al browser ma sono trasferiti tra il browser e il server quindi tra il client e il server a ogni richiesta quindi il server ha un controllo volendo sui cookie diretto mentre sullo storage il controllo c'era solo il browser